Farmacia Mari, la tua farmacia di fiducia. Ogni giorno professionalità, dialogo e cortesia al tuo servizio. Prodotti di alta qualità, dedicati alla cura e alla bellezza della persona. Sabato 25 novembre dalle 8 alle 11 in Farmacia, controlliamo la tua glicemia. Presentati a digiuno, la colazione te la offriamo noi. Farmacia Mari, vicinate ogni giorno.